Buongiorno e buon venerdì 29 maggio. Come in altre occasioni ho detto, i pensieri è vero che vengono spontaneamente. Alcuni naturalmente li pianifichiamo nella dimensione del calcolo, altri e sono la maggioranza e i più autentici ci vengono, indipendentemente dalla nostra volontà. A volte sono piacevoli, altre sono dolorosi, spiacevoli, a volte ci confortano e ci illuminano nella strada della nostra esistenza, altre ci paralizzano, ci ostacolano, ci tormentano. I pensieri sono fatti così, sono espressi nella forma del linguaggio, ma naturalmente contengono l'infinito intreccio tra emozioni, sentimenti, percezioni fisiche che noi viviamo, sperimentiamo nel corso della nostra esistenza. È come se una forma quasi di armonia in qualche maniera fosse generativa del pensiero. Quindi il pensiero non è qualcosa di astratto, di estraneo alla nostra incarnazione e alla nostra presenza in questo pianeta che abitiamo provvisoriamente. E noi lo abitiamo, come soggetti senzienti, nella dimensione della consapevolezza e con una espressività che, su questo ringrazio Michele Davide Semeraro, monaco benedettino in Val d'Aosta, che ieri sera in un incontro, in un dialogo al quale ho partecipato, sempre ovviamente attraverso questi strumenti a distanza, le piattaforme informatiche, ho sottolineato un aspetto fondamentale degli esseri umani, una caratteristica specifica, probabilmente della nostra coevoluzione in questo tassello della vita sulla Terra. Noi siamo coevoluti e siamo i soggetti che custodiscono alcune funzioni che sono preziose, fondamentali e queste sì, identitarie, non di noi stessi ma della nostra vita insieme agli altri e che sono il pianto, il sorriso e la parola. Questi sono i dati concretamente più distintivi del nostro essere al mondo e attraverso questi dati distintivi noi inanelliamo i nostri pensieri che possono appunto farci sorridere, piangere e naturalmente essere fuorieri di una parola che ci tormenta o ci conforta, ci stimola o ci rende molto difficile uscire da una situazione difficile che stiamo vivendo. E in questa specificità umana e nella sottolineatura della fondamentale presenza dei pensieri, apro una parentesi, molto spesso si invita alla concretezza e non al pensiero come se fossero due cose distinte, sono esattamente la stessa cosa, cioè sono una realtà incarnata che orienta la nostra esistenza e realizza ciò che noi facciamo. senza i pensieri non saremmo in grado neppure di essere produttivi. Ebbene questa generatività dei pensieri, questa fondamentale presenza dell'intreccio tra sentimenti espressi carnalmente, con le lacrime e con il sorriso, noi ci apprestiamo ad affrontare l'esistenza con serietà, con dignità, con forza d'animo, con disponibilità a essere instancabili pellegrini del cammino sul tratto di esistenza che ho concesso. Certo, qualche volta ci fermeremo anche in qualche oasi, ma sono luoghi di sosta, non sono luoghi dove edificare la dimora definitiva della nostra esistenza. Il nostro luogo è il passaggio, è la transizione, il costante cammino. Poi noi abbiamo interpretato la vita come l'edificazione di una dimora definitiva, con una illusione, quello di essere immortali. Certo, siamo consapevoli e siamo intimoriti dall'idea e dal pensiero di essere destinati alla fine, alla morte. E ci viene molto difficile, come ha sottolineato Michele Davide ieri sera, saper accogliere la vita eterna, cioè l'eternità della vita, cioè qualcosa che appartiene a una realtà che non ha tempo e spazio. È infinito fluire dove il tempo, nella sua dimensione interpretativa umana, cioè il tempo come cultura, come invenzione, se lo ricorda molto bene caro figlio in un articolo di Repubblica di ieri, quel tempo non esiste. La vita è eterna, non ha tempo, ma noi siamo soggetti alla mortalità. Ebbene, questa dimensione della mortalità condiziona profondamente la nostra esistenza e anche il nostro, così diciamo, fraintendimento, quando ci confortiamo nella dimensione dell'oasi definitiva. No, noi siamo soggetti in cammino e in questo cammino dobbiamo avere la pazienza di educarci costantemente, di non sentirci tediati dalle parole che giungono dagli altri, dalle parole che incontriamo nel corso della nostra esistenza. Il club alcuni anni fa hanno coniato un termine, l'educazione ecologica continua, ed è un termine che non trovo assolutamente nuovo in sé, tutt'altro. Si ancora su una antichissima tradizione, la quale invita gli esseri umani a essere soggetti in quanto sapiens costantemente disponibili all'apprendimento senza fine, tranne naturalmente per ciascuno di noi la consapevolezza che a un certo punto personalmente avremo fine, ma quell'educazione continuerà in modo perpetuo, l'apprendimento continuerà anche al di là dell'homo sapiens, è un apprendimento che almeno su questo pianeta Terra è iniziato 5 miliardi, si calcola 400 milioni di anni fa, che probabilmente anche questo pianeta avrà termine, ma è un apprendimento che si iscrive nel mistero dell'universo, dove evidentemente, inaccessibile alle nostre conoscenze, avvengono altre forme di apprendimento. Ho voluto fare questa lunga premessa perché i pensieri oggi mi hanno portato appunto all'esperienza di ieri sera, che ho trovato molto confortante per me, cioè partecipare a un colloquio, a una conversazione, a una conferenza, nella quale c'è l'opportunità di ascoltare, è una dimensione rigenerante e quindi dovremmo far sì che qualora noi consapevoli, purtroppo attraverso esperienze di dolore, che abbiamo bisogno di conforto, di ripresa di un cammino di crescita e maturazione, di fare i conti con una paralisi della nostra esistenza, dobbiamo esporci alla forza generatrice dell'ascolto della scuola permanente. Freud all'inizio della sua scoperta della tecnica della psicoanalisi fece sedute tutti i giorni, poi per ragioni pratiche distanziò almeno di un giorno o due il tempo tra una seduta e l'altra, ma proponeva più volte alla settimana e per molti anni. Era una ragione tecnica, ma era soprattutto, secondo me, il riflettere una caratteristica umana che non si deve mai smettere di imparare. Queste settimane, in questi mesi, abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare una grande quantità di conferenze che sono ancora disponibili anche in rete e molte persone a un certo punto si sono infastidite perché temono che qualcosa possa turbare la loro intimità, perché ritengono che non ci sia più tempo per loro nell'ascoltare le parole degli altri. Credo che questa chiusura in se stessi non faccia bene alla dimensione di un nuovo umanesimo, che riaccoglie il senso di appartenenza, la realtà di essere persone in cammino che non si fermano in un'oasi, metaforicamente la realtà del club invitata a diffidersi almeno una volta all'anno, che non significa rompere i rapporti di amicizie che si sono costruiti, tutt'altro, significa di amplificarli. Esattamente questa sollecitazione che udono in fece consapevole che c'è una tentazione molto intrinseca all'essere umano a non voler procedere nel cammino illudendosi di aver trovato la sosta definitiva. Quindi dividendosi si esce dalla oasi nella quale ci si è collocati e non si vuole più ascoltare nessun percorso di parola. Allora, ieri sera Michel Davide è stato capace di trasmettere un grande senso di mitezza. Altri potrebbero sollecitarci anche con parole dure, come possiamo fare ascoltando le parole contenute nei scritti di Franz Fanon, il quale appunto usò l'espressione parole dure. Anche quelle in qualche maniera scalfiscono la nostra durezza. Se noi siamo duri ed egocentrici non dobbiamo temere le parole che duramente ci sollecitano a camminare. Noi incontreremo parole di conforto e parole dure. Dobbiamo accoglierle insieme e far sì che ci disponiamo con animo sereno a moltiplicare la realtà di una condivisione della parola sempre più frequente perché i padroni della terra, coloro i quali la vogliono sfruttare per il profitto, sono lavoratori a tempo pieno 24 ore su 24. Se noi vogliamo costruire un nuovo umanesimo nel quale ci sia la logica dell'amore che trionfa, dove le disuguaglianze sociali vengono superate, dove non si instaura un nuovo regime di potere ma si cammina con il senso di libertà che ci è concesso in quanto pellegrini e che accolgono anche la fine dell'esistenza con il cuore gioioso di appartenere alla vita eterna. Non è un discorso meramente religioso ma non possiamo neppure irridere la dimensione religiosa. E come ha ricordato Michel Davide, lo stesso Jung descrisse come un meccanismo la religione, come una sorta di meccanismo, un modo per prepararci alla morte. non è una condizione mortifera e depressiva, è tutt'altro. È un invito gentile e duro allo stesso tempo di essere persone infaticabili nell'apprendimento perché è bello anche se è difficile, anche se è faticoso apprendere e sapere che noi apparteniamo a un procedere costante e non siamo destinati a una dimensione di appunto, come ho detto prima, abitazione definitiva in un'oasi felice, anche perché questo non è concesso a stragrande maggioranza del pianeta, il quale deve, è costituito da persone che devono anche arrancare. Allora per rispetto di chi fatica noi doniamo la nostra disponibilità a faticare per ripristinare la condizione della pienezza della vita in questa nostra madre terra. Buona giornata a tutti.